serie dumpster recuperati dal cassonetto ecco qui una segreteria telefonica digitale modello sharp vediamo cosa si può recuperare da un oggetto del genere fornendo alimentazione si sentono dei movimenti interni probabilmente della parte fax e il display lcd dice controllo pellicola quindi sembra apparentemente funzionante qua possiamo recuperare sicuramente i rulli usati per la stampa dei fax retroilluminando la pellicola si possono vedere le stampe che sono state fatte per il fax smontaggio è semplicissimo basta togliere le viti sul pannello inferiore e si accede direttamente all'interno della segreteria telefonica notiamo la messa a terra sulla carcassa tramite questo capocorda filo e addirittura anellino di ferrite sul filo di terra questo di dubbio utilità comunque sicuramente questo anello di ferrite ci può essere utile per altri esperimenti facendo leva qui sopra apriamo la prima scheda che trovandosi con la 220 diretta direi che è lo switching che crea poi le alimentazioni interne per la segreteria sembra in buono stato dopo eventualmente proviamo ad alimentarlo per vedere se le tensioni fornite sono buone e possiamo riutilizzarlo stacchiamo lo spinotto ecco qua rimosso ecco lo stadio switching dall'ingresso riconosciamo il doppio fusibile quindi sia su fase che su neutro condensatore di sicurezza quindi classe x fra le due linee fase e neutro infatti ricordiamo che questo deve garantire dei modi di guasto che non possono portare a situazioni pericolose dopodiché proseguiamo con questa bobina di modo comune quindi per bloccare lo switching verso la rete stadio raddrizzatore con i diodi discreti condensatore di livellamento che è un 56 micro 400 volt poi abbiamo transistor q1 che farà da interruttore di potenza per switchare questa questo trasformatore fra primario secondario questo semiconduttore è un k 2717 poi notiamo diodi e da questa parte il secondario con le alimentazioni quindi condensatori elettrolitici e connettore per punto di prelievo poi vediamo qua un piccolo trimmer probabilmente per aggiustare le tensioni al secondario schema semplice marcato sharp sembra in buone condizioni considerato che si tratta degli anni 90 come tecnologia notiamo che c'è anche dell smd saldata direttamente sul lato saldature quindi direi che per l'epoca era anche abbastanza moderno guardiamo l'alimentatore switching se collego la 230 volte in ingresso e mi posiziono sui due connettori in uscita leggo 24.7 volt continui quindi è perfettamente funzionante per vedere la frequenza di funzionamento di switching mi collego fra drain e source di questo semiconduttore che è quello che dovrebbe switchare il trasformatore di switching se fornisco alimentazione verifico la mia frequenza di switching che posso andare a vedere nel dettaglio quanto vale vedo ovviamente delle oscillazioni di natura induttiva andiamo a misurare la frequenza la distanza fra due fronti di conduzione del mosfet è di 20 microsecondi e quindi la frequenza di switching è 50 kilohertz più o meno stabile proseguiamo oltre questa scheda posta su questo lato è una scheda che fa l'interfaccia con la linea telefonica in quattro qua riconosciamo i connettori di tipo rj questa parte di base è analogica notiamo i passi per risparmiare il doppia faccia quindi hanno realizzato tutto su una faccia da questa parte la componentistica analogica un pochino più ingombrante quindi elettrolitici una bobina qualche condensatore dall'altra parte anche qua notiamo un design digitale diciamo inizio anni 90 con chip smd di controllo questi qua sarà interessante andare a guardare le funzioni di questa scheda ecco la terza scheda che sembra essere la scheda di controllo principale quindi come prima cosa stacchiamo i connettorini e andiamo a vedere di estrarre questa scheda ecco smontata l'unità centrale andando a togliere questa plastica riconosciamo il chip di controllo principale che è un conexant per cui avrà tutto il suo sistema un chip cablato dentro questo è un uln 2001 quindi un array di transistor darlington quindi per pilotare con un po di potenza le interfacce esterne quindi immagino io motori per far avanzare il rullo della carta e tutte le parti diciamo a potenza un pochino più elevata qua abbiamo un po di elettronica digitale sarà probabilmente l'accesso alle ram infatti riconosciamo le linee a formato bassa sul lato saldature anche qua abbiamo un montaggio smd riconosciamo proprio componenti di taglia 0204 qua riconosciamo la batteria tampone una cr2032 come prima scommessa possiamo vedere se è carica si accettano scommesse andiamo a misurarla 2855 si beh è un po scarica però pensavo peggio di solito si trovano in corto la cosa che mi ha colpito è che questa batteria risulta essere praticamente saldata direttamente alla scheda quindi non è in quegli slot diciamo estraibili ma è proprio saldata sul pcb con queste due lamelle svitando anche queste viti si ha accesso al modulo il motore eccolo qui e in pratica riconosciamo un motore che dovrebbe essere un passo passo direi dopo lo andiamo a verificare ecco il motore ha un'interfaccia a sei fili quindi direi che in effetti è un passo passo se siete interessati a vedere come scoprire gli avvolgimenti e come pilotare un motore passo passo fatto così potete guardare il mio video 140 dove ho un motore analogo prelevato quella volta da una stampante e tramite multimetro e alcune misurazioni si va a vedere come pilotare step by step questo tipo di motori attaccato al motore c'è la scatola di riduzione dove notiamo tutta una serie di ingranaggi per permettere appunto la demoltiplica dal motore step passo passo a il nastro avanzato della carta questi ingranaggi di plastica possono essere eventualmente riutilizzati nonché le molle per altri meccanismi simili dove si siano appunto rotti i dentini proseguendo oltre qua in profondità vediamo che abbiamo una cassa audio che era utilizzata appunto per le funzioni di viva voce segreteria telefonica e fax 0 25 watt 8 ohm utile per un progettino magari per esempio di uno scillofono o comunque di un piccolo amplificatore audio qua nella parte centrale abbiamo i cablaggi della unità madre le unità accessorie notiamo un altro anello di ferrite si vede che alla sharp erano terrorizzati dai disturbi questo è già il secondo rimuovendo questa vite sul frontale si ha accesso a il carrello della carta che è un'unità a sestante che ha un cablaggio che arriva da questa parte e tutte le parti meccaniche per l'avanzamento del rullino facendo leva con un cacciavite si toglie questa parte e si ha accesso alla stampa termica è interessante questo sistema di molle che tiene nella giusta posizione le testine di stampa termica queste sono collegate tramite un connettorino semplicissimo a togliere all'unità di attuazione che abbiamo visto prima la parte superiore si apre a panino si vedono tutti i vari compartimenti dove scorre la carta e tutti gli ingranaggi per l'avanzamento rulli ecco un pezzo misterioso questo circuito c'è scritto che non deve essere rimosso ma osservandolo è veramente particolare ci sono queste piazzole e semplicemente queste serigrafie con dei numeri ecco isolata l'interfaccia utente vediamo cosa è contenuto al suo interno prendo qua si ha direttamente accesso alla scheda che occupa tutta la parte della tastiera una volta aperta ovviamente è tutta realizzata con deep switch a pcb quindi questi possono essere tutti riutilizzati in ultimo il display lcd che è sempre marcato sharp ecco qui il bottino accumulato quindi abbiamo un po di componenti che si possono togliere uno switching funzionante sulla parte digitale magari un po meno roba cablaggio un po di meccanica viti molle e un pochino di ingranaggi la plastica invece direi che la si può buttare appunto nella plastica ok per questa puntata è tutto vi invito sempre a non buttare niente cercare di riciclare il più possibile e vi saluto ciao alla prossima